Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva a Rezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata da Palazzo del Piero. Torniamo a seguire il campionato Berretti e il derby tra Ghezzo e Siena, con la Ghezzo seconda in classifica a quota 25, anche il Siena ha ben messo in classifica a quota 16. Dunque si annuncia sicuramente una partita interessante, sempre un derby, quindi anche a livello giovanile sarà sicuramente una partita combattuta. Sbarzella, prova il tiro dalla distanza, Sbarzella diventa non facile per Comparini, che è comunque riuscito ad accompagnare il pallone fuori prima della ripartenza di Gaffa. Nucci gli porta via palla Finocchi e poi cerca di andare in verticale, impossibile per Caselli, troppo lungo. Artini rischia qui, c'è Sussi che ruba palla, attenzione Sussi, Sussi, Sussi! Sì, la grandissima respinta di Comparini che qui si è salvato con un grandissimo intervento. Sbarzella subito col sinistro, cercare Finocchi, Sersanti poi per il portiere Comparini, che rischia tantissimo, regala palla a Finocchi, attenzione! Finocchi la rimette in mezzo da Sussi che sta arrivando adesso, la tiene in campo Sussi, pronto a un altro traversone, deviato, palla che è arrivata al limite. Sbarzella, pensato al tiro, poi ancora Caselli, Caselli fuori di pochissimo, bella azione con l'Arezzo che è già in avanti, anche se c'è Gaffa che recupera. Attenzione, che brivido, Comparini ha mancato completamente il pallone, si arrabbia con qualche compagno. Poi Artini, questi quattro giocatori del Siena che pressano i difensori, comincia a diventare un problema. Sussi però, grande anticipo, avanza Sussi, in aga di rigore, Sussi più veloce, conclusione! E gol fantastico! Un gol fantastico di Sussi! Ha fatto il Sussi e fa gol 1-0 al 45esimo minuto, un gol veramente straordinario per come se l'è costruito prima il guizzo con cui si è anticipato tutti, poi è partito in velocità e poi ha tirato davvero una sassata sotto la traversa. E al 45esimo dunque l'Arezzo sblocca la partita, sblocca il derby con Sussi e poi l'Arezzo che può andare, ancora Micocci, scatta Sussi, occhio al fuorigioco, palla per Sussi di Micocci, vediamo Sussi ci dovrebbe arrivare, la tiene in campo Sussi, su di lui Cecconi che riesce a deviare, crossa al volo di Ruscetta per Caselli, Caselli fuori! La prima vera occasione di questo secondo tempo per raddoppiare Caselli che può far correre Sussi, Sussi e Cecconi, Sussi e Cecconi, Sussi in aga di più veloce, Sussi, Sussi! Si salva con Parini. Micocci fermato da un intervento buono, attenzione poi in aga di rigore, Perri, Ubirti di testa, il salvataggio di Tralci sulla botta, colpo sicuro di Filucci. Tralci ha salvato sulla linea, tutto pronto, va Fontana, è ancora barriera, altra volta di Fontana, che è te, trova l'angolino, Fontana al secondo tentativo, trova l'angolino, trova l'uno a uno e dunque l'Arezzo viene rimontato proprio al... trentottesimo, arriva questa beffa quasi finale per la squadra Amaganto. Sussi andrà dalla bandierina, è una delle ultime opportunità perché siamo al 48esimo. Sbarzella e Sussi, si fanno sentire gli ultras dell'Arezzo. ecco il traversone, palla in mezzo del mucchio, arriva Micocci, Micocci, rimpallo e c'è il colpo di testa, tentato da Ceci, la porta è vuota, Micocci, Micocci, riporta in vantaggio l'Arezzo, al 93esimo, fanno festa i giocatori dell'Arezzo sotto gli ultras, protestano i giocatori del Siena per una posizione irregolare. Micocci per il 2-1, l'Arezzo in vantaggio, di nuovo al 93esimo, espulso il portiere, attenzione, espulso il portiere Comparini, per le proteste vibranti, espulso Comparini, proteste vibranti. Siamo al 52esimo, ancora lo stacco di gaffa, finisce qua, l'Arezzo vince il derby, Berretti con una partita rocambolesca che l'Arezzo sembrava aver inizialmente portato quasi a casa, 1-0 con il gran gol di Sussi al fine del primo tempo, poi l'Arezzo aveva sfiorato per due volte il raddoppio, poi era venuto fuori il Siena, prima un salvataggio sulla linea dell'Arezzo che aveva rischiato di subire il pari, il pari poi è arrivato con Fontana e poi c'è stata questa azione convulsa nel finale con una mischia interminabile con il Siena che ha protestato molto per la dinamica del gol del 2-1, che è arrivato con Micocci che ha messo la palla in rete. L'Arezzo dunque trova la nona vittoria in campionato, vittoria dunque sul Siena in questo derby, campionato Berretti 2-1, nona vittoria in campionato, L'Arezzo sale a quota 28 in classifica, adesso gli Ultras vogliono la corsa verso di loro, che arriva puntualmente Ultras che non hanno fatto mancare il loro affetto anche alla formazione Berretti ed eccola qua, l'esultanza finale dunque per questo derby. Insieme a mister Alessandro Longo è stata una battaglia, forse lo si sapeva, risolta con questo episodio finale contestatissimo. Sapevamo che il Siena è un'ottima squadra, una squadra che come noi sta provando a dare il meglio per ottenere l'obiettivo finale che è quello di qualificarsi per le finali nazionali. Ripeto, sono un'ottima squadra, ma devo dire che i miei sono stati superiori per molti tratti. Onestamente il successo è meritato, anche se gli avversari hanno dato il massimo e mi sono piaciuti molto. Ecco, semmai su 1-0 l'aghezza ha avuto due circostanze per addoppiarli e poi in certi casi mi è sembrata un po' sbilanciato il senso ha preso dei contropiedi che per una squadra in vantaggio è un po' strano. Diciamo che è il nostro piccolo difetto perché poi non si può rimproverare nulla a questa squadra che ha vinto sempre, ha pareggiato una sola volta e ha perso a Torino. È una squadra che ha coraggio, che cerca la rete più volte. Ecco, il difetto di cui parlavo è proprio quello di non riuscire a chiudere le partite quando c'è l'occasione. sul gol finale credo che l'arbitro fosse piazzato benissimo, abbia visto meglio di chiunque altro quindi il gol credo che sia regolare e soprattutto credo che il successo sia meritato da parte dell'Arezzo. A proposito dei gol, una grandissima giocata di Sussi, l'1-0 ha fatto il Sussi e ha fatto un gran gol. Il gol di Micocci premia un giocatore generoso che ha fatto anche una grande partita. Sì, veniva da un periodo un po' difficile perché è stato a lungo fermo per un infortunio. Sabato scorso Acuneo è rientrato in campo dal primo minuto, ha fatto discretamente. oggi anche diciamo che un giocatore in crescita è uno di quelli che ci ha dato tanto nel nostro cammino e oggi la sua prestazione è stata una prestazione positiva con un gol che è una grossa soddisfazione per lui e anche per l'Arezzo. Grazie a tutti.